Si è tenuto presso l'Aula Consigliare del Comune di Agropoli il primo incontro dell'iniziativa Adotta un cane del tuo territorio, lanciata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola. Insomma, un nuovo approccio che l'amministrazione comunale vuole dare rispetto al problema del randaggismo. Nelle prossime settimane sarà presentato un piano di microcippatura che si pone quale obiettivo primario? Quello di evitare abbandoni selvaggi, gli incontri di sensibilizzazione presso l'Aula Consigliare. Proseguiranno ogni ultimo sabato del mese. Prossimo appuntamento il 23 febbraio. Da oggi cominciamo una sensibilizzazione verso i nostri cittadini a dire ci sono questi cani che aspettano una famiglia, cercate insomma di chi può, insomma di dedicarsi, dedicare un minuto e ascoltare questo nostro appello e fatevi coraggio, avvicinatevi, venite a scegliere un cane e venite l'apprendere perché lui certamente merita una famiglia come ho detto prima ma sicuramente vi darà tanto in cambio. Questo vuole segnalare alla fine una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione comunale a questo problema che diventa di fatto una delle nostre priorità e continueremo sia a sensibilizzare la città perché ci sia una maggiore attenzione verso gli animali, sia che ci sia da parte loro, da parte dei cittadini la volontà di poterne finalmente accogliere uno e naturalmente proseguiremo una battaglia però verso coloro che abbandonano gli animali e alimentano questo problema del randaggismo. Quindi sono felice perché oggi dall'incontro è venuto fuori però una unità di intenti tra l'ASL, il Comune di Agropoli, il Canile, le associazioni di categorie, quelle che si occupano tutti i giorni dei nostri amici a quattro zampe, una sinergia importante che secondo me produrrà già nei prossimi mesi degli effetti positivi. Il mio canile si mette a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie appunto riguardo i nostri cani e in più abbiamo deciso di omaggiare appunto le persone che fanno questo enorme gesto con un kit di benessere. Quindi regaliamo a chi adotta un cane un sacco di mangime, in più un guinzaglio ed una pettorina. Il canile è sempre mal visto come una prigione per cani mentre noi ci reputiamo il tramite per spostare i cani dalla strada e donarli ad una famiglia. Quindi nel frattempo noi doniamo qualsiasi tipo di attenzione, qualsiasi tipo di cura che magari il cane necessita e ci giochiamo. Quindi ricevono anche quell'affetto che magari da altre persone forse non viene visto. Questo tipo di iniziativa è stata già attivata con qualche altro comune oppure è la prima volta? Diciamo che è la prima volta l'iniziativa nel senso di venire al comune, portare i cani e diciamo creare questo progetto. Ma ci tengo a precisare che il mio canile è sempre stato favorevole alle adozioni. Quindi le adozioni vengono fatte in maniera ripetuta. Ilaria, soddisfatta di questo incontro a favore dei nostri amici a quattro zampe? Molto soddisfatta. Spero e invito anche le persone ad essere presenti perché anche il nostro gruppo è abbastanza seguito. Quindi mi auguro che tutte le persone che tra l'altro abbiamo anche aiutato a ritrovare il cane o a trovargli adozione, che siano presenti, inizino ad essere presenti anche a questi incontri perché è molto importante. Quando avverranno gli incontri ti ricordi, l'hanno detto? Sicuramente il 23 febbraio adesso e poi ogni ultimo sabato del mese.